Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. È stata un'altra notte movimentata quella nel centro storico Aretino. Una 25enne è stato infatti soccorso con gravi ferite d'arma da taglio. È stato così portato all'ospedale in codice rosso. Vediamo cosa è successo. Ennesima notte movimentata nel centro di Arezzo. C'è stata l'aggressione ad un uomo ferito con un'arma da taglio, poi trasportato al pronto soccorso. Potrebbe essersi consumata nell'ambito dello spaccio di droga l'aggressione al 25enne, nato in Italia, magrebino di origine, avvenuta stanotte nei giardini di Campodimarte ad Arezzo, dietro la stazione ferroviaria. Non mi sento tanto sicura perché ci succedono anche altri posti, altre città e tutto. Perché non ci succede solamente in Arezzo, ci succedono anche altri posti. In tutti i posti non siamo tanti sicuri. L'uomo è stato raggiunto ripetutamente da colpi di arma da taglio. Gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di un coltello o di un collo di bottiglia rotto. Il 25enne è stato aggredito intorno alle 3.30 del mattino, poi soccorso dagli operatori del 118 in Piazza della Repubblica, non nel luogo dell'aggressione, ma a pochi passi di distanza. Io personalmente non ho mai avuto problemi. Negli ultimi tempi sicuramente si sente parlare di tafferugli, risse, violenze per le strade, cosa che io sono residente qui da molti anni e una volta non era così. C'erano sicuramente molti meno di questi episodi, però tutto sommato non credo sia meno sicura di altre città. Ultimamente vedo molto più attive le forze dell'ordine, in questo senso qualcosa è stato fatto. Tra l'altro in una parte centrale di fronte alla stazione? Sì, la stazione è frequentata notoriamente da personaggi poco raccomandabili. Ultimamente vedo molte più pattuglie che sorvegliano. Ci dovrebbero essere di più, secondo te, di forze dell'ordine in giro o appunto forse non... No, io credo che facciano quello che possono. Quando accade qualche episodio intervengono abbastanza tempestivamente, quindi penso che da più di così non si possa fare molto. Sul caso indaga la squadra mobile della questura di Arezzo, diretta da Sergio Leo, al momento gli inquirenti, non sono stati in grado di parlare con il 25enne per le sue gravi condizioni di salute, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per quanto riguarda l'aggressore, è stato denunciato in stato di libertà un 25enne senegalese che ha precedenti penali per spaccio di droga. A Lucignano invece questo pomeriggio la restituzione di un'importante opera d'arte che era stata rubata più di 30 anni fa. Per noi il bambino della Madonna di Crespignano ha un valore simbolico. Torna finalmente a casa, torna nella sua originaria collocazione, in braccio alla Madonna, quindi davvero è un momento bello e toccante per tutta la comunità. Torna così tra le braccia della Madonna il bambino Gesù rubato oltre 30 anni fa, il 2 settembre 1989. Oggi è stato restituito e riconsegnato nella chiesa di San Francesco a Lucignano. È un'opera d'arte come tanti che sono spariti e che se ritrovassero sarebbero un'opera monotone perché Lucignano è pieno di opere d'arte. Non siamo più padroni di tenere chiese aperte se non c'è un custode, perché se no sparisce tutto. A ritrovarlo, abbandonato davanti ad un santuario in Liguria, i militari del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova, fondamentale la banca dati dei beni culturali, illecitamente sottratti la più grande al mondo di opere d'arte rubate. Grazie all'intuizione del rettore di quel santuario, che ha nell'immediatezza intuito che potesse essere un'opera importante, ha attivato subito il comando carabinieri tutela patrimonio culturale e da lì nascono le nostre indagini, che quindi, scremando tutti i casi appunto censiti sulla banca dati, ci hanno messo alla fine in possibilità di mecciare la scultura che era rubata qui a Lucignano. L'opera, una statua a linea della Madonna di Crispignano, risale al XIV secolo ed è attribuita a Mariano D'Agnello Romanelli. Il valore emotivo e storico dell'opera è sicuramente inestimabile. Se vogliamo parlare di quanto, se fosse stata commercializzata, magari così, possiamo stare sui 40-50 mila euro, ma un valore molto indicativo. Restiamo in Valdichiana. Questa mattina si è rinnovato l'appuntamento con la Marcia della Pace, 9 chilometri da Civitella in Valdichiana sino a San Pancrazio. Sì, un momento importante. Con la Marcia della Pace iniziano quelle che sono le celebrazioni nel ricordo di quelle che sono le nostre vittime. Quest'anno facciamo il percorso della pace, come tutti gli anni. Quest'anno lo facciamo da Civitella verso San Pancrazio, un momento importante che vuole, da una parte, andare a ricordare quelle che sono le nostre vittime, quella che è la nostra storia e da quell'altra andare, soprattutto verso i giovani, ad andare a seminare quella cultura della pace di cui sempre più oggi ne abbiamo bisogno. L'eccidio di Civitella fu una strage compiuta dalle truppe nazifasciste il 29 giugno del 1944 a Civitella in Valdichiana, da dove quest'anno è partita la Marcia per la Pace, a Cornia e a San Pancrazio nel comune di Bucine, 244 i civili trucidati. Oggi si ricordano quelle vittime invocando anche la pace in Ucraina. Purtroppo in questo momento storico da tutto il mondo, ma particolarmente dall'Europa e dall'Ucraina, arrivano dei segnali devastanti e quindi a maggior ragione era importante che oggi facessimo questa camminata che appunto è camminata per la pace. Alla marcia hanno partecipato rappresentanti anche di altri comuni del territorio aretino e il comune capoluogo. Senta che ne pensa Assessore del fatto che oggi nel 2023 se qualcuno fa un saluto romano, alcuni si indignano, altri un po' meno. Ovviamente è un gesto che ricorda momenti brutti della nostra storia, quindi anche fatto in maniera scherzosa o piuttosto superficiale non va bene, specie se uno ricopre una carica pubblica. Per qualcuno è facile, semplice non andare a fare determinati tipi di saluto. Questo non fa bene, non fa bene al nostro paese, non fa bene soprattutto ai giovani, in quanto dagli errori del passato dobbiamo costruire il nostro futuro. Mi solletica su una cosa veramente che ci fa anche rabbia, perché è inutile aver fatto una Costituzione basata su certi valori e poi si fa finta di nulla e tutto è lecito e tutto è consentito. Questo purtroppo è uno dei difetti dell'Italia e di noi italiani. Noi cerchiamo di lavorare perché comunque la memoria si conservi e dire che l'Italia è un paese antifascista ha un significato profondo, a prescindere dal saluto o non saluto. Però questa cosa bisognerebbe tutti se la ricordassero e tutti la facessero rispettare. Ma senta, si legge per chi vuole vedere diversamente cose che sono chiare e che ovviamente sono scritte, stampate nella storia e che ovviamente ne portiamo avanti. Io direi di guardare avanti, effettivamente di non dare adito a discussioni che lasciano il tempo che trovano. Siamo convinti che dobbiamo effettivamente guardare lontano, rappresentare le nuove generazioni e miglior guida della nostra Costituzione non c'è, che è quello che ovviamente dobbiamo tenere come riferimento e come guida. Passiamo alla politica. Oggi è partita la campagna di coinvolgimento e d'ascolto del Partito Democratico che proseguirà sino alle amministrative del 2025. È Primavera lo slogan scelto. Lo slogan che campeggia sui manifesti del Partito Democratico è Primavera disegniamo il futuro della città. Insomma, preannuncia un impegno politico non indifferente per la città di Arezzo. Sì, è Primavera è la campagna che inizia il percorso verso le amministrative 2025 e lo fa con questi criteri. Il primo è sicuramente quello del coinvolgimento e la partecipazione. Noi vorremmo che questa iniziativa fosse a disposizione di tutti ed è aperta a tutti quelli che vogliono dare un contributo e partecipare. Abbiamo scelto di dividere per dieci temi, dieci grandi temi, dall'urbanistica al disegno della città fino alle politiche sociali, luoghi di confronto dove insieme costruire le proposte per il 2025. Diciamo che i problemi non mancano in questa città. Sì, diciamo noi abbiamo provato a mettere oggi il punto su tre questioni. La prima è una questione strategica di cui si parla da tanto, dove c'è una campagna aperta, ad esempio del Comitato Sava, cioè quella dell'alta velocità e la stazione dell'alta velocità d'Arezzo. Noi abbiamo il centro-sinistra, il Partito Democratico ha una posizione sola, quella espressa dal Presidente della Regione Eugenio Gianni, che abbiamo espresso noi ormai da tanti anni, cioè la localizzazione è ributino. Dall'altra parte il centro-destra ha quattro posizioni, quello del Sindaco di Cortona, del Sindaco di Arezzo, del Presidente della Regione Umbria e di Matteo Salvini, che non coincidono. Ecco, per noi governare significa sulle opere strategiche, vuol dire che significa che su Arezzo si sceglie, si fa un investimento, perché questa città ha bisogno di questa infrastruttura, soprattutto per il capitale umano che espreme. La seconda è la questione che riguardano i lavori pubblici. Non è semplice tenere aperti tanti cantieri in città, qui c'è un record, sono tutti chiusi. Quello emblematico è sicuramente quello della Rotonda di Via Fiorentina, che dal 2015, le elezioni amministrative, da quale si è pensato di iniziare questo percorso complesso di viabilità, ancora oggi, dopo otto anni, quella è sostanzialmente una pozza e fermo. Ecco, questa è l'immagine dei lavori pubblici in città, di fronte poi a quello che si vede quotidianamente, strade ormai ridotte con la brodo, e noi abbiamo continue sollecitazioni da parte dei cittadini di chiedere, interrogare il comune rispetto alle opere di manutenzione semplice che vengono richiesti. Terza questione è la questione educativa. Noi siamo al fianco dei genitori, delle maestre, delle famiglie che oggi hanno la necessità di avere una risposta in una città che vive momenti di paura con la questione baby gang, ma c'è una realtà ancora più profonda, cioè oggi siamo la città penultima nelle classifiche per abbandono scolastico. Ecco, noi su questo dobbiamo sicuramente fare una grossa riflessione e delle azioni concrete che l'amministrazione però non fa. Terza questione è la questione politica. Noi questa iniziativa la mettiamo a disposizione della città e vogliamo costruire un'alternativa da qui al 2025, perché oggi il centrodestra ha un leader politico che si chiama Francesco Macri. Nel bene o nel male è lui che deciderà il sindaco nel 2025 ed è lui che di fatto guida la destra in questa città e governa la città. Noi riteniamo che con chi ci sta vogliamo costruire un'alternativa, un'alternativa a quelli che pensano che questo modello di governo, che queste scelte strategiche deboliscano la nostra comunità e che quindi dobbiamo provare ad aspirare a qualcosa di meglio. In Val D'Arno invece si è svolto il primo intervento alla fratta in ortopedia pediatrica su un bambino ad eseguirlo il dottor Ludovico Pannarella da un mese direttore del reparto. È stata effettuata lo scorso giovedì sul bimbo di 5 anni a seguito di una complessa frattura scomposta all'avambraccio. L'intervento è durato circa 40 minuti, è eseguito in anestesia generale ed è stato effettuato in The Hospital, il che ha permesso alla piccola di tornare a casa la sera stessa dell'intervento. E adesso voltiamo pagina. Dopo il rinvio della scorsa settimana, domani nel centro storico Aretino torna il mercatino dei ragazzi del Calcit quest'anno alla sua 69esima edizione. Dopo il rinvio della scorsa settimana, causa maltempo, il mercatino dei ragazzi del Calcit è pronto a tornare ad invadere strade e piazze del centro storico Aretino per la 69esima edizione della manifestazione. Noi l'abbiamo rinviato domenica scorsa perché effettivamente sarebbe stato un po' troppo azzardoso cercare di forzare. Questa domenica invece c'è uno spiraglio. Lo spiraglio è che la mattina non piove e noi quando la mattina possiamo aprire i banchi anche se si arriva alle 2, alle 3 che poi viene qualche goccia diciamo che intanto il grosso dell'incasso lo abbiamo fatto poi se viene qualche goccia la prendiamo però la mattina possiamo lavorare perciò domenica saremo tutti presenti e ovviamente anche tutti contenti perché insomma alla fine il mercatino è anche una giornata di festa per tutti. Almeno 250 i banchi dislocati in un chilometro e mezzo attorno alla zona Eden. A tutti i partecipanti sarà poi regalato il medaglione e la rinascita del Calcit ideato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Professionale Margaritone. Ho notato che stanno tornando diverse scuole e anche famiglie con bambini piccolini perciò c'è questa voglia di partecipare insomma diciamo anche questo fatto dei bambini è chiaro che ogni tanto va ricostruito perciò insomma io penso che il Calcit diciamo dal mercatino di domenica si riparte sperando appunto di avere una bella presenza dei bambini. Il ricavato come sempre sarà destinato al sostegno delle cure domiciliari oncologiche del servizio scudo. Devo dire che è un servizio veramente che quando occorre le famiglie lo apprezzano tanto perché si sentono sostenute in un momento veramente difficile. E maggio come sempre il mese del Calcit con tante iniziative in programma tra queste l'appuntamento con il mercatino in concerto la ventinovesima rassegna musicale abbinata al ventunesimo concorso musicale Calcit Gianfranco Barulli dedicato appunto al fondatore del comitato nel 1978. L'amore del 78 Le rose del calcit Già sono le leggi, l'amore vero, vero a te, l'amore. Grandi artisti e piccoli artisti in erba insieme per il ventunesimo concorso musicale Calcet intitolato a Gianfranco Barulli. Questa è la ventinovesima rassegna musicale il prossimo anno. Questa iniziativa compirà 30 anni. Abbiamo già raccolto 7.263 euro, oggi è il giro di boa, quindi abbiamo ancora sette giorni di musica piena, la finale al Teatro Petrarca, il gran concerto domenica 28 alle ore 19 della neonata orchestra sinfonica Calcet, 408 iscritti. E' nato perché io ero grande per vendere la roba al banchino e misi una tastiera in mezzo alla piazza e da lì tutto cominciò, 30 anni fa. Il prossimo anno sarà il trentennale e rifarò almeno tre rassegne durante il mercatino con il pianoforte e il gazebo come erano alle origini, che i ragazzi si divertevano tanto. Grazie, è un grande onore cantare in questo meraviglioso circolo artistico e per il calcio di questo e altro, aiutare gli altri in una battaglia così importante è fondamentale perché la salute va salvaguardata e va aiutata, e anche quelle persone che stanno male. Quindi ben volentieri, con grande slancio, vediamo tutte le volte. e poi ci sono grandissimi artisti che si susseguono a questi merissimi concerti ed è bellissimo sentire giovani che si cimentano in grandi brani, in grandi arie e quindi insomma è una cosa molto bella. Sono iniziate ieri pomeriggio le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Gabriella Tevenin la suora della San Vincenzo de Paoli che ad Arezzo realizzò numerose opere educative e assistenziali di cui la principale quella di aver fondato un orfanotrofio che oggi è la casa Tevenin che porta appunto il suo nome. La scelta della data è significativa perché Suor Gabriella Tevenin nacque in Francia il 19 maggio 1823 e ieri proprio nello stesso giorno è stata celebrata la Santa Messa in memoria presso la cappella del Tevenin in via Sassoverde ad organizzare la cerimonia alla fondazione Casa Tevenin nella sezione aretina dell'Ordine di Malta. E adesso passiamo alla pagina dello sport ad annunciarlo è stato direttamente Paolo Indiani questa mattina dopo i colloqui con il DG Giovannini e gli S Cutolo lo staff tecnico è interamente confermato anche l'anno prossimo dunque Indiani potrà contare sulla collaborazione di quattro figure che quest'anno si sono rivelate fondamentali per il buon esito della stagione oltre a Federico Vettori resta ad Arezzo il match analista Lorenzo Nannizi il preparatore atletico Maurizio Pecorari e Massimiliano Maggi e adesso passiamo al calcio giocato continua infatti la strada dell'Arezzo nella Polo Scudetto dopo aver battuto in casa domenica scorsa il Gianni Arminio domani i giocatori a Maranto affronteranno in trasferta il Pineto di questo ha parlato Mister Indiani che si è detto fiducioso nel corso della conferenza stampa nella quale ha anche commentato il rinnovo del team sentiamolo un piacere, hanno parlato tutti e due i direttori abbiamo due direttori sì sì, Vettori è già stato fatto precedentemente in questa settimana hanno definito tutto sia Nannizi, match analisi Pecorari, preparatore atletico e Maggi, preparatore portieri che è un'enorme soddisfazione mia e credo di tutti continuiamo lo stesso staff tecnico diciamo che ci siamo spesi ecco perché poi è chiaro in altre questioni non puoi entrare però dal punto di vista tecnico, umano insomma siamo stati bene insieme e avevo molto piacere che continuavamo gli stessi elementi sì, più o meno siamo gli stessi siamo gli stessi la settimana scorsa più o meno siamo gli stessi spero di avere almeno un cambio a disposizione dei difensori domenica non avevamo nemmeno quello spero che Polvani possa essere recuperato come gli altri sono gli stessi è giusto saperlo, la squadra deve sapere che se perdo un gol di scarto sicuramente non mi sbilancerò per andare a pareggiare questo è ovvio però non è facciamo che siamo in grado di favore più o meno mi abbiamo fatto domenica la squadra ora può fare quello speriamo di farlo l'Arezzo Calcio Femminile invece comunica che su richiesta della FGC divisione Calcio Femminile venendo incontro alle esigenze della società Ravenna Woman la partita inizialmente in programma domenica 21 alle 16.30 è stata posticipata a martedì 23 maggio alle 17.30 allo stadio comunale città di Arezzo un posticipo dovuto all'impossibilità da parte della società Ravenna Woman di spostarsi a causa dell'alluvione che ha colpito drammaticamente l'Emilia Romagna e in particolare nelle ultime ore la provincia di Ravenna passiamo ora alla ciclismo domani a Broglio in Valdichiana il 21esimo trofeo Fans Club Daniele Bennati primo trofeo strade bianche di Broglio una gara ciclistica per la categoria Uniones la partenza è alle 14 il percorso prevede un circuito di 13,3 km da ripetere 9 volte con un tratto di strada bianca di 700 metri questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci arrivederci a tutti a tutti Grazie a tutti.